E chi torna ad attaccare la riforma del Senato è Beppe Grillo, oggi alla Maddalena. Quanto alla legge elettorale, il leader dei 5 Stelle chiede modifiche oppure dice subito al voto. Claudia Mazzola. No, andiamo a farci un bagno. Da comico o ex, Beppe Grillo non rinuncia all'ironia. Dalla Sardegna accende riflettori sulla Maddalena, set del mancato G8, con opere abbandonate e appalti finiti al centro di indagini giudiziarie. È la storia d'Italia, le cose rimangono irrisolte, il commento duro del leader 5 Stelle che poi lancia l'affondo contro il PD proprio sulla legge elettorale. Se questa cosa non funziona si va alle elezioni, andiamo alle elezioni, verifichiamo se veramente questo 40% del 50% degli aventi diritto vota di nuovo così e se vota così io dirò avete ragione voi, ho sbagliato tutta la mia vita. La trattativa tra M5S ed M, nonostante le molteplici giravolte, è ancora in piedi. Ma il fattore tempo gioca contro, all'interno del movimento aumenterebbe il fronte del nuovo dialogo. Certo è che la miccia accesa dallo scontro nell'aula del Senato sulla riforma di Palazzo Madama non accelera il rapporto fra le due forze politiche. Qui non c'è tanto di eliminare il Senato, c'è tanto di mettere dei senatori nominati dagli stessi partiti. Se lo vedi a pezzi non ti accorgi, sembrano riforme. Se vedi il quadro generale, il mosaico generale è dittatura, schietta. Tra lunedì e mercoledì, prima protesta in piazza dei parlamentari 5 Stelle.